Buongiorno da Ilenia e da Morgana! Bella, passiamo un po' le aghe. Allora, sono passata in edicola. Dirai, ma tu ci passi tutti i giorni. No, beh, ultimamente sto passando un po' meno. Ho trovato i Puffy Yummy. Il gioco richiede capacità di lettura e calcolo basico. Sì, perché bisogna scappare dal supermercato. Personaggio più tabellone di gioco. Ma no, ma davvero? Ma cos'è? Bisogna scappare dal supermercato. Ma il magazine non c'era, non me l'hanno mica dato. L'è dentro? No, dentro c'è il tabellone. Il gioco completo è composto da 15 personaggi. Aspettate, vi metto a fuoco. Pedina, 45 cards e 6 tabelloni. Questi qua sono tutti i personaggi che si possono trovare. Ok, noi non potremmo mai farlo perché l'asciura aveva solo quei due qua, forse. Apriammi prima il suo, vai. Vado prima io. Questa qua è la copertina. C'è su una ciambella una. È l'apertura facilitata. Torta, voglio le patatine. Enorme. C'è sta cosa? Allora, prima vediamo cosa abbiamo trovato dentro. Allora, sentitevi, faccio subito vedere. Che schess'è? È questa. È il dolce. Ma cosa c'è dentro? Farina? Guardate. Oh mio Dio, cos'è farina? Guarda, fa toccare, fa toccare, fa toccare. Sì, guardate. Lo scoppia adesso. Questo, se scoppia, va in giro roba da partite. Allora. Sì, c'è fuori una cosa. Che bello, non vedevo l'ora. Nel sacchettino trovate... Oh la Peppa, quanta roba. Allora, trovate la card, la sua card. Lui ha un dolce freddo, lei. Scivola, scivola. Batti le mani, ignora gli effetti della casella svush. Splatti, splat. Il giocatore è più veloce a schiacciare per primo una pedina, la elimina. Conta fino a tre, poi schiacciala ed elimina. Wow! Sei sulla strada giusta, avanza di una casella. Questo è il tabellone? No, ma bisogna fare qualcosa. Ah, praticamente, man mano che trovi i personaggi, trovi... Ah, non l'avevo capito, sai. Ah, qua vi fa vedere tutte le regole del gioco. Vedete, questo qua è un normalissimo squishy? Beh, no, non è proprio uno squishy, calcolando che c'è dentro la farina. È uno squishy. Ok, tocca a me. Comunque, è dai sei anni in su, eh. 3,50 euro è il prezzo. Poco. Ma, se devo essere sincera, non mi convince molto. Ma sono bellissimi! Vai Morgana, apri il tuo! Ok. Io direi che questo non conviene darlo, non dimmi che è uguale, non conviene darlo al tuo fratello. Allora... Che hai trovato, Morganella? Le patatine! No, io l'avevo detto! Ma c'è una liquida! Cos'è? Questo qua è mio. Guardate, lui è liquido dentro. Questi due sono i miei. Questi qua, ma scusa. Ah, si guarda così. No, vabbè, dovete capirmi. Allora, intanto che Morgana... Ah, questo qua non lo squish tanto. No, perché se c'è dentro qualcosa di liquido... Ma... Allora, abbiamo trovato... Salato caldo. Praticamente, questa qua è la carta del cambio. Grida cambio. Puoi scambiarti di posizione con un altro tuo personaggio salato nello stesso reparto. Uh! Ti sei perso. Fermo il turno. Adesso guardiamo. Cambio. Cambia un caldo in freddo e un freddo in caldo. Noi abbiamo sia un caldo che un freddo. Però non possiamo giocare, purtroppo. E abbiamo trovato questa casella. Uguale. È uguale a quella là? Sì. No, davvero? Guarda. Ma davvero? Ma ma... Oh, ma noi il nostro doppione... Mamma! Eh, c'ho un po' di Alzheimer. Noi il nostro doppione quotidiano... Eh, guarda. Eh, Morgana. Vedi che però cambia il colore per quello che mi ha... Vabbè! Eh... Non è vero, sono belli! Ma... A parte questo che... Senti, intanto che ti squisci lì... No, questo no, questo è questo. Io voglio aprire questo. Ho trovato solo questo. Infatti la Shura mi ha regalato anche la scatolina! Sì! Dei my lovely friends veterinari. L'abbiamo aperti. Davvero? Non questo. Prenditi cura di noi. Cambiamo... Cambiamo colore in acqua! Cambia colore. Due cuccioli, oggetto giocabile, due stickers in ogni bustina. Ma in acqua caglia o in acqua fredda? Non l'ho capito. Adesso dopo fermiamo il tutto e vediamo. Perché fai la vocina? Costo dell'operazione... Un euro e 99? Davvero? Ecco perché c'era la scatola vuota. Insieme ti danno questo bellissimo libricino... Aspetta! Mi danno questo bellissimo magazine... In omaggio a un fantastico gadget... Con tutti questi... Forse questi qua non li abbiamo mica aperti? Sì, quelli lì. Ah... Questo è il libricino... Ma c'è il posterino! Ah, noi questo ce l'abbiamo da qualche parte? La cutta. Ah, ma io me ne ricordo sti cosi! Ma forse una vita e mezza fa li abbiamo aperti, no? Ma non quelli. Sì, ho capito. Però qualcosa del genere... O te l'ho comprato quando eri piccolina? Che non facevamo il film? No, quando non eravamo neancora... Dele famosissime YouTube! Cosa stai dicendo, Ilenia? Ma sei fuori? È vero. Allora, questa è la scatola... A te io? No, non per lui. Che carino questo qui! Intanto è arrivato il tigre, se ti ho visto qua la zampetta, guardate. Ma lascialo stare! Fa vedere! Lui ha la bibi... Dai 0 a 3 anni... Apro? L'apro io. Uffa! Apri! Rompina! Qua devi aprire però, così vedono tutti. Apri vai! Taglia! Tigre! Non c'è la forbice. Le forbici, lui. Tigre, ascolta. Tu vuoi troppo farti vedere. Vai Morgana! Allora, l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Un termometro. Un termometro. Ma sì, ma guarda che ho fatto qualcosa. Ma scusa. Una cuccia. Ma è tipo una... È un coso 3D. Una cuccia, vai, monta. Il fogliettino. Aspetta. Ah, guarda. Le attacchiamo man mano che li troviamo? Questa piazzaria. Guarda. Aspettate perché qua... Ah, ma non trovi tutti. E poi i personali sono di plastica. È così triste questa cosa, Morgana. Cos'è quella roba? Eh, ho impiccato un po'. No, no. Aspetta. Allora, io attacco questo... Ma dove lo attacchi? Ma va... Ma va... Ti sta... Allora... Qua ti spiega... Allora, la bilancia per pesarlo. E ti dice il coniglio. Scusate. Ok, Campanello, scusate il vicino... No, il vicino. Che mi ha portato un po' di frutta del suo orto. Un po' di frutta, un po' di verdura del suo orto. Dunque, dove eravamo rimasti? Stavamo parlando? Se non sbaglio? Che ci dice cosa fare le cure all'animaletto? Ma si possono vedere questi animaletti? Allora, abbiamo un cae. Ma sono meno oscoli. Poverino. È un... Basta, Lucky. Topo? No, un criceto. Ma... È un criceto? È un topo senza... Lucky, scusate. Poi dopo la Lucky va avanti ad abbaiare per ore, 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 ore. E anche di notte. Bene, io direi che sta cosa a me mi ha un po' deluso. Però terrò sicuramente questo per farci qualcosa con la resina. Lo dico sempre, ma poi la resina. Va bene? Salutiamo. Cambia colore. Eh? Cambia colore. Cos'è che cambia colore? I petto. Guarda. Non fa niente. Dai, non fa niente. Ce lo inventiamo perché questa... Bianco e... Guarda, mi ha deluso tantissimo sta cosa, davvero. Io pensavo che erano pelosi. Va bene un euro e novantanove, però, mamma mia. Cioè, sono proprio un euro e novantanove buttati via. Va bene. Fa niente. Vi salutiamo. Non sappiamo se questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!